Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di Un Pass per il Benessere. Oggi parliamo dei primi mille giorni di vita e lo facciamo con gli ospiti in studio che sono Giorgio Terziani, visit professor in disciplina del benessere alla St. George School di Brescia e responsabile di un progetto di divulgazione medica-scientifica sull'importanza dell'ossigeno. Benvenuto. Buonasera a tutti. E la dottoressa Simona Nava che è medico-chirurgo specialista in ginecologia ed ostetricia ed esperta in medicina sistemica ed epigenetica. Benvenuta. Buongiorno a tutti. Allora, come dicevamo, l'argomento di oggi sono i primi mille giorni di vita. Le chiedo qual è il ruolo dell'epigenetica in questo periodo, in questi mille giorni. Beh, i mille giorni di vita penso che siano una delle chiavi più importanti per permettere di vivere sane poi nel futuro. Allora, parlando da un punto di vista tecnico e poi da un punto di vista medico ne parlerà la dottoressa, tutto quello che noi facciamo, beviamo, respiriamo, pensiamo e l'ambiente in cui viviamo condiziona in maniera importante la salute delle future generazioni. Quindi quello che noi amiamo sempre fare è quello di creare cultura su uno stile di vita sano, ma soprattutto su un ambiente migliore. E oggi, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, si salvi chi può dall'impatto ambientale, dall'inquinamento, dalle sostanze chimiche che abbiamo riversato nei mari, nei fiumi. Basta pensare a quanto il fumo di sigaretta, per esempio, abbia condizionato la salute di intere generazioni, quando le persone respiravano il fumo negli ambienti come ristoranti, negli aerei o nei teatri. Basta pensare quanto il danno da fumo di sigaretta o da fumo passivo può influire sulla salute delle persone per capire quanto noi dovremmo stare attenti a quello che appunto mangiamo, beviamo, respiriamo e anche pensiamo. Quindi è una grande responsabilità che abbiamo e la dottoressa, magari su questo potrebbe, la dottoressa Nava, darci un suo parere. Sì, dottoressa Nava, ci spieghi quindi che cosa succede in questi primi mille giorni, e perché sono così importanti per la salute del bambino che nascerà? Intanto grazie, grazie dell'invito e grazie anche a Giorgio Terziani per fare così bene il divulgatore di questa epigenetica. Ho frequentato una scuola da lui organizzato di alta formazione in epigenetica e devo dire che per noi medici queste informazioni sono davvero fondamentali. Innanzitutto vorrei spiegare a chi ci ascolta cosa intendiamo per mille giorni, perché magari non è così chiaro. I primi mille giorni di vita di un individuo sono quelli che trascorrono dal concepimento, quindi quando l'individuo è davvero ancora solo una cellula, in cui si sono fuse le due cellule gametiche, quindi l'uovo e lo spermatozoo del papà, e formano lo zigote che poi diventerà un individuo, un embrione, un feto, un neonato e poi un bimbo di due anni. Quindi mille giorni sono 270 trascorsi nel grembo della mamma e 730 i primi due anni di vita del bambino. Bene, dovete sapere che questi giorni, questo periodo, dal punto di vista epigenetico, è davvero una finestra di grande importanza, in quanto in questi giorni le cellule di quell'individuo vengono davvero innanzitutto fatte fisicamente, strutturalmente fatte e anche programmate. Quindi la differenza tra genetica ed epigenetica si intende proprio che la genetica sono le informazioni scritte in un quaderno che è il nostro DNA, chiamiamolo il nostro quaderno delle informazioni su come noi dovremmo funzionare. E questa è la genetica, quindi le informazioni sono scritte e sono scritte in termini di come il nostro corpo riuscirà a fare le proteine, che poi possono funzionare in termini di anticorpi, proteine di struttura, quindi il collagene, enzimi, ormoni, sono tutte proteine. L'epigenetica invece che cos'è? È come il nostro corpo riuscirà a leggere le informazioni scritte sul nostro quaderno. Mi faccio esempio, quindi questo che poi è un libro che Giorgio ci presenterà, è scritto e ha informazioni bellissime. Ma se questo fosse una tazza di caffè e io la rovesciassi su questo libro, che ha informazioni scritte benissimo, la tazza del caffè che si rovescia sul mio quaderno e lo sporca rende incomprensibile ciò che c'è letto. Questa si chiama epigenetica, quindi lo sporco che altera le informazioni, il modo con cui noi riusciamo a leggere il libro, è quello che determinerà poi la nostra capacità per tutta la vita di leggere la nostra informazione genetica. E purtroppo, come diceva Giorgio, ci sono molte tazze di caffè, permettetevi il paragone, ci sono molti inquinanti che, se entrano sul nostro DNA, il nostro quaderno delle informazioni, e lo alterano e non renderanno comprensibile le informazioni, non permetteranno la programmazione delle nostre cellule in termini leggibili, in termini fruibili. E il corpo dell'individuo che poi diventa un neonato, un bambino, un adolescente, un giovane adulto, un adulto, un anziano, farà sempre più fatica ad adattarsi ai cambiamenti della vita. Quindi, quello che è importante divulgare è come noi interveniamo nei primi mille giorni di vita, in termini di programmazione cellulare. Quindi questo ha un'importanza sia per far sì che il bambino nasca sano, ma sia perché poi abbia una struttura fisica, la forza, la capacità di reagire un domani alle tazzine di caffè che si rovisceranno ancora durante l'esistenza, ai problemi, agli inquinanti, alle varie situazioni che si creeranno durante la sua vita. È così, dottoressa? Bravissima. Se io strutturo bene un individuo e le sue cellule saranno forti dal punto di vista epigenetico, quell'individuo saprà affrontare periodi di carestia, malattie infettive, infiammatorie, e reagirà bene, avrà una miglior capacità di autoguarigione, di riparazione anche dei danni del DNA. Quindi nella vita noi verremo per forza sempre a contatto con inquinanti, con virus, veniamo fuori, speriamo di essere nella via di uscita di una pandemia virale. ebbene la differenza della reazione all'ingresso di un virus nel nostro corpo lo fa la nostra capacità di combattere le malattie, di reagire, la nostra forza del sistema immunitario, in termini di risposta appunto contro le malattie virali, batteriche, eccetera, eccetera, ma anche la capacità adattativa del nostro metabolismo. Ad esempio nei primi mille giorni di vita noi scriviamo la capacità di un individuo di metabolizzare bene i cibi perché permettiamo alle cellule di quell'individuo di reagire bene ai cibi, di metabolizzarli bene. È un po' la differenza che fa, ci sono degli individui che mangiano onestamente poco e magari tendono ad ingrassare, ci sono degli individui che mangiano molto e non ingrassano bene. Questa differenza, al di là della qualità dei cibi, dello stress, quindi poi tutta la vita ci pone delle sfide che noi dobbiamo affrontare, ma la differenza anche metabolica la scriviamo nei primi giorni di vita. Ad esempio è noto, molto noto, che feti neonati che nascano da donne obese, francamente obese, durante la gravidanza abbiano delle difficoltà metaboliche maggiore durante la loro vita perché l'obesità è comunque una malattia che tende a creare delle infiammazioni croniche. Il tessuto adiposo è in realtà un tessuto metabolicamente attivo, produce delle molecole, le adipocine che infiammano, ok? Quindi anche il bambino risulta nato epigeneticamente predisposto a dover combattere contro queste molecole. Ci sono tanti inquinanti, ma non soltanto che vanno a colpire il nostro fisico, ma parlando del benessere anche la mente, quindi a livello psicologico, a livello emotivo. A volte è importante anche sapere che un pensiero negativo piuttosto di una bistecca alla fiorentina si dice, no? Pensate quanto certi pensieri possono determinare certi nostri comportamenti o come reagiamo a certi accadimenti della vita. Però nello stesso tempo non dobbiamo dimenticare che noi siamo fatti di cellule, quindi la salute delle cellule è fondamentale, a cominciare da DNA mitocondriale, dai mitocondri, quelli trasmessi dalla madre. Ecco perché la salute dei padri e delle madri prima del concepimento è fondamentale, come diceva la dottoressa. Ancora prima dei miei giorni, quindi. Ancora prima, perché è proprio da lì che poi noi possiamo pensare di avere generazioni sane. E questo come lo possiamo fare? Proprio con queste attenzioni legate allo stile di vita, perché poi le informazioni che vengono interpretate a livello epigenetico, quindi l'interpretazione di questo libro meraviglioso, è che se questo libro è danneggiato o sporcato da inquinamento o fattori epigenetici di interferenza, basta pensare ai campi elettromagnetici, quanto possono influire sulla salute delle nostre cellule. Basti pensare che un campo elettromagnetico, magari non lo vediamo, però sappiamo che inverte la polarità delle nostre membrane cellulari. Quindi pensate quanto sia importante avere dei mitocondri sani, del DNA mitocondriale sano, pensare anche in termini di costituzione della nascita. Il discorso di obesità è legato anche alla costituzione, è programmata nella pancia della mamma a livello fetale, per il suo stile di vita e per lo stile di vita dei suoi genitori. Pensate che nell'epigenetica le malattie si trasmettono fino alla seconda, terza, quarta generazione. Che responsabilità abbiamo verso le future generazioni? Ecco che, importantissimo, come abbiamo scritto in questo libro, nella modulazione fisiologica di Ossigen on Demand, è veramente fondamentale ossigenare le cellule. Uno dei nutraceutici più importanti è il self-food, che è stato studiato proprio per riattivare i mitocondri, ossigenare la cellula, modulare l'eccesso di radicali liberi, perché poi la vita nasce da una segnalazione redox, dalla capacità proprio noi che abbiamo di modulare e regolare lo stress ossidativo. Quindi è fondamentale mettere insieme tutte queste informazioni per creare un futuro migliore, per fare prevenzione. Se prevenire è meglio che curare. Ecco che, magari, con dei test epigenetici ad hoc, come il test S-Drive di cui abbiamo parlato, che ci permette di capire quali sostanze ha bisogno la persona, quali inquinanti stanno danneggiando la persona, e questo non si fa dal bulbo del capello, si prende il capello, si mette su questo dispositivo e in 12 minuti si ha un'indicazione che permette ai professionisti, ai medici, di migliorare l'anammesi. E penso che questo sia molto importante, no, dottoressa? Sottoscrivo assolutamente tutto. Io stesso sto eseguendo questo tipo di test anche per la semplicità e la non-invasività del test e in poco tempo, davvero, dà a noi professionisti una chiave di lettura di quel corpo. Devo dire onestamente che, come suggeriva Giorgio, io lo applico molto nel preconcepimento, perché davvero è tanta roba se noi riusciamo a depurare il corpo dei due genitori nella genesi della nuova vita. quanto più quella cellula, la prima cellula che si viene a costituire nel grembo della mamma è sana e quindi di derivazione da due genitori sani che non sono stati esposti o, se esposti, sono stati depurati, perché ci sono davvero tanti sistemi anche con una buona alimentazione. Ci sono alcuni alimenti che ci aiutano a depurarci, così come ci sono degli alimenti che ci inquinano. Poi ci sono dei buoni integratori e nella scelta degli integratori lo invito davvero, insieme ai colleghi che le persone, a scegliere bene, perché purtroppo ci sono in giro delle formulazioni che solo per il fatto di essere poi commercializzate e che devono mantenersi stabili hanno davvero un apporto di conservanti e di coloranti, cioè dentro nelle compresse degli integratori ci sono un sacco di molecole, esse stesse riconosciute come genotossiche, ad esempio, perché devono fungere da coloranti, ad esempio. Cioè chiediamo al mondo della integrazione, della farmaceutica, di produrre dei prodotti che vadano ad integrare un po' le nostre alimentazioni che per ovvie ragioni sono meno pure di cent'anni fa. Meno pure anche depauperate, no? Dei loro principi nutrizionali. Raffinate, troppo raffinate, ma perché noi abbiamo l'abitudine di mangiare cibi a lunga conservazione. C'è questo termine che io odio, devo ammetterlo, cibi a lunga conservazione. Ma perché dobbiamo andare a cercare cibi che mantengano la non... cioè che non si degradino per tanti mesi? Noi dovremmo puntare a un'alimentazione fatta di cibi freschi, naturali, come la natura li crea. La natura davvero mette tutto ciò di cui avremmo bisogno dentro, in ciò che crea. Il problema è il fatto di togliere i nutrimenti per poter rendere un cibo a lunga conservazione. Ma anche la persona, prego. Quindi, scusi, benvenga l'introduzione di integratori, perché è davvero difficile adesso procacciarsi cibo puro. Cioè, un bambino è difficile... Io e Giorgio abbiamo raccolto le pesche, rubato le pesche dai campi e mangiate, no? Ma adesso non ci sono più bambini che prendono un frutto da un albero e lo mangiano, una carota da terra, una scotolata della terra e se la mangiano. Anche la persona più attenta non può vivere con la speranza di nutrirsi nel modo migliore, senza avere delle carenze, appunto. Per questo si parla dell'importanza dell'integrazione. Corretta. È proprio così. Tu pensa che ci sono oltre 140.000 sostanze chimiche conosciute, 5.000 a livello planetario. E tutto questo, basta pensare alle isole di plastica. Abbiamo nei mari isole di plastica. Isole, cioè, sconfinate di plastica. E queste cose, come possiamo pensare di vedere spiaggiare le balene piene di questi, o i delfini, o altri cetacei, o animali, pieni di sostanze tossiche. E noi uguali. Noi siamo lo specchio di quello dove viviamo. Stiamo depauperando la terra perché non facciamo più la rotazione dei raccolti. La vogliamo sempre perfetta. La mela di biancaneve. E poi questa mela, alla fine, è contaminata. Quindi bisogna fare delle scelte consapevoli e non allontanarci dalla natura. Perché tutto quello che ci fa allontanare dalla natura, prima o poi, ci fa pagare un prezzo altissimo. E quando parliamo dei primi mille giorni di vita, quanto è importante che queste cellule siano ben ossigenate? Che i mitocondri possano lavorare in maniera giusta? Che abbiano le informazioni giuste, tra cui un ambiente familiare sano, non solo dell'ambientale, del cibo, dello stile di vita, ma anche dei nostri pensieri, dell'amore che noi dovremmo mettere al servizio degli altri. Dovremmo essere di esempio, anche di pensieri, quando si parla di pensieri positivi, no, poi uno... No, però è questo, pensieri giusti. Perché dobbiamo fare delle scelte giuste, perché abbiamo una responsabilità nel futuro e la salute delle future generazioni. Caro Giorgio, hai detto proprio una cosa fondamentale, e quello del pensiero positivo, però, è anche un po' mediato dalla salute delle cellule. Io, ad esempio, faccio sempre l'esempio, mi avete già sentito parlare su questa rete di vitamina D, ad esempio, la carenza ormai cronica di vitamina D, e tanto impatta nella gravida, sul anche neurosviluppo dell'embrione e del feto, una carenza di vitamina D, perché ormai la nostra vita è anche d'estate dentro i centri commerciali. Io penso sempre che una delle cose peggiori che abbiamo fatto è l'aria condizionata, perché fa sì che le persone che prima andavano all'esterno, perché c'era un po' di brezza, si stava meglio prima in estate fuori che non nelle nostre case, che erano dei forni. Adesso, invece, si sta meglio dentro che fuori. Cosa succede? Che la gente non prende più il sole, non beve più acqua e non prende più sole. Quando questo capita in un individuo, che è una gravida, che sta generando la vita, lei, Loretta, mi deve spiegare come si può fare la vita senza sole, senza acqua sulla terra. Il problema è che adesso davvero le donne pretenderebbero, poi dopo se ben istruite fanno per il bene dei loro bambini, però davvero c'è l'idea che si possa generare la vita senza sole, senza acqua, senza cibo energeticamente positivo. Per cui i pensieri purtroppo a volte sono anche mediati da carenziale, perché ad esempio la carenza di vitamina D ci dà un mood, un mood, un umore un po' depresso, tendente al pensiero negativo, tant'è che in paesi dove non si riesce a fare tanta vitamina D come il nord Europa, c'è un tasso di, un'incidenza di suicidio superiore ai paesi dell'Equatore, dove in realtà, ad esempio, se pensiamo agli stili di vita, al welfare, cioè è logico che uno penserebbe che stiano peggio dal punto di vista dell'umore, della felicità in Equatore che in nord Europa, no, invece è il contrario, perché la biochimica, la biochimica interviene fortemente anche nella generazione dei nostri pensieri, no? E la felicità ha anche una base biochimica. E tutto questo incide nei primi mele giorni sul nascituro, sul futuro nascituro. E qui bisogna pensare in termini di biodisponibilità, di assimilazione degli integratori alimentari, della nutraceutica, la via sublinguale, tecnologie come una tecnologia Medis importantissime permette di veicolare questi nutrienti a livello della barriera gastrointestinale, quindi essere assimilati e arrivare ai mitocondri, perché poi non sono i cibi che mangiamo a determinare la nostra salute, ma sono quelli che assimiliamo. Quindi se assimiliamo sostanze che non arrivano alle cellule oppure assimiliamo inquinanti, il problema aumenta. E quindi è sempre la somma che fa il totale. Pensiamo a quello che accade in carenza di ossigeno oppure in carenza di vitamina C, ormai subdola, nessuno la conosce più, ma è ritornato allo scorbuto. Perché? Perché spesso la vitamina C va assunta a basso dosaggio, magari spray sublinguale, che ci permette di modulare anche l'apporto e poi va ripetuta durante la giornata, perché altrimenti si ha un picchio e poi dopo spesso sovraccarichiamo gli organi e montori con un'azione pro-ossidante. Quindi bisogna stare molto attenti. Ecco perché è importante avere anche dei professionisti che consigliano la nutraceutica, quel determinato a carenza nutrizionale. Ed ecco perché un test come S-Drive ci permette di capire e conoscere di quale nutriente abbiamo bisogno e intervenire a scopo preventivo e predittivo e migliorare quelle varie situazioni che ti permettono poi di mettere al mondo bambini sani. Esattamente. Fare un test del genere prima di concepire o agli inizi della gravidanza davvero permette di fare una grande prevenzione. Una grande prevenzione perché se io scopro ad esempio una carenza di vitamina D ad una gravida sappiamo che ad esempio correggendo la possiamo già fare anche una prevenzione dei deficit del neurosviluppo fetale. fino anche l'autismo è stato associato ad una carenza di vitamina D. Non solo questo ma davvero l'autismo è una condizione di impatto negativo epigenetico. I metalli pesanti che siano entrati nella gravida la carenza di vitamina D alcuni aspetti anche dell'intestino dell'assorbimento come dicevi tu Giorgio dei micronutrienti. Cioè davvero quando noi programmiamo il nostro bambino e lo stiamo costruendo dentro il ghembro della mamma dobbiamo immaginare di farlo con le nostre migliori risorse acqua sole ossigeno cibi e vibrazioni positive. C'è tutto poi lo studio anche sui suoni che sentirà questo bambino la voce materna che vibrazioni gli dà la musica. Anche perché appunto non è detto che una predisposizione genetica poi si manifesti nel bambino se si adatta a uno stile di vita compreso l'integratore di cui stiamo parlando adesso adeguato e che aiuti il bambino. Sto pensando a quanti nuovi casi quanto sono in aumento le malattie metaboliche nei più piccoli. soprattutto nei primi due anni di vita ci sono aumento vertiginoso come la dottoressa potrà confermare di patologie autoimmuni oppure di tumori soprattutto nei bambini da 0 a 2 anni proprio perché la salute dei padri e delle madri non sono più come quelli di 100-200 anni fa semplicemente per le cose che abbiamo detto prima ma proprio per questo ambiente che ci sta condizionando la vita ci sta sprogrammando le cellule ci sta depauperando dell'ossigeno ottimale a livello delle nostre cellule dei mitocondri e poi il nostro lo stress la gestione dello stress dobbiamo imparare a gestire lo stress perché dobbiamo assolutamente assumersi la responsabilità della nostra vita perché è tutto collegato insomma benessere salute benessere emotivo benessere fisico e beh questa è la medicina del sistema della complessità dei nostri sistemi è difficile ormai pensare di riuscire a risolvere queste malattie come diceva Giorgio così precoci come le malattie autoimmuni che sono una sregolazione del sistema immunitario cioè il sistema che ci deve difendere dalla malattia e dalle sostanze esogene immaginare un sistema così complesso risolto con una medicina lineare cioè la medicina che ad un sintomo fa corrispondere un farmaco devo dire che questo non è più non può essere più la medicina del nostro futuro noi dobbiamo davvero portare avanti e divulgare una medicina della complessità una medicina dei sistemi in modo da permettere che le generazioni future siano più sane e si sappiano meglio adattare ai cambiamenti perché avremo grossi cambiamenti ma più forte il nostro sistema immunitario e metabolico e psicologico meglio ci adatteremo chiudiamo con una riflessione riflessione è che noi dobbiamo limitare i danni perché viviamo in questo mondo quindi non è che possiamo scegliere un altro dovremmo innanzitutto fare questo per prevenire sicuramente un test come S-Drive test epigenetico che ci permette di conoscere cosa possiamo eliminare dalla nostra vita e integrare scegliendo cibi migliori ma soprattutto poi ossigenare le cellule e self food penso che sia uno dei nutraceutici più importanti al mondo grazie vi ringrazio quindi per questa bella intervista ringrazio Giorgio Terziani grazie a voi e ringrazio la dottoressa Simona Nama grazie a tanto grazie anche a voi telespettatori continuate a seguirci grazie a tutti grazie a tutti